Buongiorno amici e amiche di Volumbrite, siamo qua con Marco Perri, uno dei relatori del seminario di oggi sulla vita indipendente tenutosi alla sala dell'antico teatro di via San Marino X. Dottor Perri ha presentato le linee guida regionali sulla vita indipendente e volevamo chiederle cosa ha permesso alla regione Piemonte di essere in qualche modo tra le regioni più virtuose nella concretizzazione dei progetti di vita indipendente in Italia. Grazie innanzitutto, ma la regione Piemonte è diventata una delle prime regioni in assoluto a sperimentare i progetti di vita indipendente grazie anche a un lavoro di rete con le associazioni promotrici per la vita indipendente, cito Fisce con Secur e agli enti gestori dei servizi socioassistenziali tra cui c'è anche sicuramente il Comune di Torino e altri enti che hanno portato avanti in passato la vita indipendente come il CISAP di Grugliasco. Ci ha permesso questo discorso a livello territoriale e culturale di progettare direttamente come regione Piemonte e tra i primi in Italia questa nuova modalità di concezione a livello culturale e di prospettiva di autonomia rispetto alle persone che hanno una disabilità. Durante il suo intervento ha sottolineato come nel territorio piemontese ci siano comunque delle disomogeneità per quanto riguarda i progetti di vita indipendente diffusi. Quali sono comunque anche all'interno della regione Piemonte le aree provinciali o comunque non provinciali più virtuose? Le aree provinciali più virtuose sono l'area della provincia di Torino e l'area della provincia di Cugno. Abbiamo effettivamente questo cruccio a livello di regione Piemonte che ci viene anche sottolineato dalle associazioni che è costituito dal fatto che manca una certa omogenità dei progetti di vita indipendente su tutto il territorio regionale. Secondo noi è molto importante che ogni cittadino disabile che risiede nella regione Piemonte abbia questo diritto, abbia questa possibilità. Quindi uno dei lavori che sicuramente bisogna fare negli anni sarà quello di dare la possibilità ad altri territori come la provincia di Vercelli ad esempio dove ci sono pochi progetti di attivare dei progetti di vita indipendente. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.